Connessi e consapevoli, in queste due parole possiamo riassumere i risultati della ricerca d'Oskills condotto dal network di ricerca europeo EU Kids Online. La parte italiana è stata coordinata dalla professoressa Giovanna Mascheroni, docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, qual è stato il focus di questa ricerca, dell'indagine e che cosa è emerso? Sì, è stata una ricerca longitudinale con ragazze e ragazze della fascia di età fra i 12 e i 17 anni sul ruolo delle competenze digitali nel benessere. Il benessere è inteso in senso multidimensionale, quindi benessere cognitivo, misurato dal rendimento scolastico, benessere emotivo e psicologico, benessere sociale e anche il benessere fisico, perché le competenze digitali sono all'ordine del giorno, insomma, delle politiche di inclusione digitale dell'Unione Europea e anche a livello nazionale, però non sappiamo ancora molto rispetto a come funzionano. Cosa abbiamo trovato? Innanzitutto, che è importante distinguere fra i vari tipi di competenze digitali, perché competenze digitali diverse, dimensioni diverse delle competenze digitali, si associano a risultati diversi. In particolare, quando parliamo di competenze digitali, normalmente tendiamo a riferirci a competenze di tipo tecnico e operativo, quelle informatiche in senso stretto, ma ci sono anche le competenze di navigazione dell'informazione online, le competenze di tipo comunicativo e relazionale e le competenze relative alla creazione dei contenuti. C'è un dato, professoressa, che più di tutti vi ha sorpreso, che comunque ha attirato la vostra attenzione? Sì, il dato sorprendente viene proprio dall'analisi dei dati longitudinali, perché abbiamo intervistato nel 2021, 2022 e 2023 un campione di ragazze e ragazze e per cui siamo riusciti a misurare anche le influenze proprio a livello individuale. E quindi, cosa abbiamo osservato? Che se crescevano tra un anno e l'altro le competenze di tipo comunicativo e relazionale, aumentavano poi, di conseguenza, anche il rendimento scolastico e il successo scolastico. È un po' sorprendente, perché siamo abituati a pensare che le competenze comunicative e relazionali in fondo non siano così importanti. A cosa ci riferiamo? Insomma, ha la capacità di usare i canali appropriati per diversi tipi di comunicazione, ha la consapevolezza delle informazioni che si possono anche rivelare pubblicamente online e quelle invece che è meglio tenere private, la capacità di riconoscere se ci sono ragazzi o ragazze vittime di bullismo e via dicendo. Quindi più competenze, che aumenta anche il rendimento scolastico, ma anche più consapevolezza dei rischi che si corrono. Sì, il dato interessante è che se non abbiamo visto una crescita molto significativa delle competenze digitali nel corso dei tre anni, che sono rimaste abbastanza stabili, in realtà abbiamo visto crescere la conoscenza digitale, per cui le conoscenze rispetto al funzionamento di internet, il funzionamento degli algoritmi, il funzionamento dei meccanismi dell'influenza, la presenza di contenuti sponsorizzati e via dicendo. E questo ovviamente implica una maggiore consapevolezza anche rispetto ai rischi di internet. Rispetto ai rischi, noi in realtà vediamo ormai consolidarsi un trend che osserviamo dal 2017 in avanti, vale a dire un aumento dei rischi in generale anche in Italia. Nelle prime indagini di YouKids Online nel 2010, l'Italia era ancora un paese a basso uso e a basso rischio. Ovviamente aumentando l'uso di internet aumenta anche l'esposizione ai rischi, ma è importante ricordare che i rischi non si traducono immediatamente e necessariamente in danno. Cioè i rischi possono anche essere affrontati e le competenze digitali aiutano ad aumentare la resilienza, cioè la capacità di affrontare i rischi. Quali sono i rischi che aumentano? Tutti i rischi legati a contenuti, dalla pornografia a soprattutto l'odio online, l'aggressività e la discriminazione. Sono i rischi più alti. Abbiamo osservato anche un incremento di bullismo e cyberbullismo in realtà, che appunto ormai è stato sperimentato da un ragazzo su tre fra i nostri intervistati, per cui sono dati ovviamente molto più alti rispetto al passato. E infatti professoressa, proprio sul bullismo e sul fenomeno dello stalking, proviamo un po' a scendere nel dettaglio, perché la vostra indagine si è concentrata in maniera importante su queste due realtà a cui purtroppo i nostri giovani ormai sono direi abituati. Lei ha citato un dato, uno su tre dei ragazzi coinvolti nella vostra indagine ha affermato appunto di aver subito atti di bullismo o cyberbullismo. Può descriverci un po' meglio questa situazione? Sì, allora un focus importante della nostra indagine erano appunto le vulnerabilità e abbiamo identificato vari fattori di vulnerabilità, dalla vulnerabilità di tipo socio-economico a vulnerabilità invece psicologiche e anche fisiche, insomma malattie croniche, disabilità e via dicendo. E abbiamo osservato che mentre la vulnerabilità legata ad esempio a uno svantaggio di tipo economico può essere facilmente colmata e compensata dalle competenze digitali, i ragazzi più vulnerabili erano quelli che subivano discriminazione, sentivano di aver subito discriminazione nella vita quotidiana per il colore della pelle, per l'origine etnica dei genitori, per la religione appartenenza e via dicendo. Abbiamo fatto poi un approfondimento qualitativo proprio su ragazze e ragazze che hanno delle difficoltà di salute mentale legate anche all'uso di internet, per cui ragazze e ragazzi che hanno problemi, disturbi di carattere alimentare piuttosto che sono stati vittime di bullismo o di adescamento e via dicendo. E qui ci rendiamo conto che in effetti le competenze digitali sono un aiuto ma non bastano. proprio per la natura ambivalente e complessa dell'ambiente digitale. Da un lato i social media sono una fonte di supporto e di sostegno per questi ragazzi, per ragazzi emotivamente fragili e con problemi di salute mentale perché si sentono molto soli, tendenzialmente non si sentono supportati dagli adulti, si vergognano spesso a parlarne con i genitori, i loro coetanei hanno esperienze di tipo diverso e quindi online hanno l'opportunità di confrontarsi direttamente con coetanei che soffrono degli stessi problemi. Dall'altra parte però ci hanno comunicato queste enorme difficoltà, pur avendo appunto competenze digitali elevate, a contenere gli effetti negativi degli algoritmi e soprattutto che regolano i meccanismi di visibilità dei contenuti online. Per cui ragazze e ragazzi che hanno cercato, non so, informazioni su come fare a essere molto magri, piuttosto che forme di autolesionismo e che non riescono ad uscire da questa spirale di contenuti che crea ansia e depressione. Una battuta finale professoressa, oggi il primo smartphone probabilmente lo si ha già alle scuole elementari, è auspicabile una corretta educazione digitale fin dai primi anni di scuola? Assolutamente, abbiamo fatto anche dei modelli predittivi e abbiamo visto che gli interventi hanno un effetto più duraturo e più benefico su tutte le dimensioni del benessere se vengono fatti già dalle elementari. Non dobbiamo demonizzare gli smartphone perché come abbiamo visto anche le competenze di tipo comunicativo e relazionare sono importanti ma è importante che, è fondamentale che bambine e bambini siano accompagnati fin dalla scuola primaria a un uso consapevole. Professoressa, se potessimo un po' sintetizzare questa nostra chiacchierata visto che lei comunque è una sociologa, le direi allora quale fatto sociale emerge da questa ricerca in definitiva? Emergono purtroppo ancora tantissime disuguaglianze che siano appunto vulnerabilità sociali, che siano vulnerabilità psicologiche emergono tante disparità i bambini e le bambine sono tutti online ma non lo sono allo stesso modo e soprattutto non con lo stesso bagaglio di competenze digitali e con lo stesso supporto da parte del mondo degli adulti ed è qui che è importante il ruolo della scuola perché la scuola raggiunge tutti Ovviamente La ringraziamo per la sua competenza, chiarezza e per il tempo che ci ha dedicato professoressa Giovanna Mascheroni che appunto è docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano Grazie, buona giornata, buon lavoro Grazie a voi, buon lavoro Grazie mille, grazie Grazie